ciao a tutti i fantasmini e bentornati in un nuovo gameplay a razzo oggi ragazzi tratteremo dino crisis andiamo subito a giocare una bella partita naturalmente facciamo semplice ma perché c'è potremmo giocare normale ma preferisco semplice perché insomma ragazzi non voglio pestegnare ecco ed ecco qui cagliamoci sotto ho portato anche delle mutande resistenti ragazzi ragazzi le grafica di una volta mamma mia che bello ok andiamo come si corre non so non ricordo che un cazzo hai trovato qualcosa beddo no magazzino materiali sempre che bel corpo sacchette di cemento ammucchiati interessante oh ma c'è una chiave là oh ma c'è una chiave là oh ma mi fai spostare prodotti per la normale manutenzione qui non c'è cibo ma però ci sono munizioni sposta qui va brava 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 mmm brava ok così dai basta che mi fai ok vuoi prendere tu una resurrezione come marito ok ok mi sono sposato un ritorno in vita col massimo della vita oh beh oh grazie andiamo di qua what the fuck che palle che sei vabbè torno indietro allora pronto? eh eh fatti i cazzi tuoi oh ma perché la dà che palle oh ma è mia chiave che palle apretti sesamo vado tocca taccatica tu tocca taccatica tocca taccatica tu tocca taccatica sembra un lenzuolo il il cielo cazzo ma quella che la fa minchia non so bene il tizio abbastanza bastardo fa entrare una donna da sola ma tu sei proprio una merda di uomo che troia non fate i furbi ho una pistola e non ho paura di usarla ci sono tre pulsanti quale pulsante vuoi premere blu ah aspetta rosso ok rosso rosso ancora quello del centrale rosso blu adesso devo pulmare l'altro quello di destra verde e bianco perfetto oh a posto così baby deve essere a posto così baby un po' c'è un interruttore vuoi premerlo vabbè si ok 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 lol merda ecco se lo so pappato gay gay passaggio cendi di serva oh cazzo vedi queste telecamere quanto mi fanno incazzare oh cacchio oh oh what the fuck la vedo brutta la vedo brutta oh cazzo eccolo e che cos'è secondo che cazzo è non aver studiato gli fanculo pezzo di merda alzati o ti faccio il culo non so che sei ancora vivo alzati pezzo di merda guarda che non mi hai bene guarda che stronzo guarda che sono dopo me di te e sono nato bastardo voleva fottermi lo stronzo che vuole eh brutta che si male beh se anche io farei fatica a crederci sicuramente tu sei pazza regina sei davvero pazza eh beh non abbiamo altra soluzione purtroppo buon